Momenti di grande apprezzione a Civitella della Tiana per la scomparsa di un bambino di 13 anni che non dà più notizie da ieri sera. Il giovanissimo si è allontanato da casa e non vi ha fatto più ritorno il piccolo Patrick Tudosi e Florin, originario dell'Euromania. C'è grande preoccupazione tra i familiari che hanno lanciato l'allarme. Il ragazzo al momento della sparizione indossava una maglietta bianca con mezze maniche e pantaloncini neri e scarpe bianche di una nota marca con baffo nero. Patrick è alto poco più di un metro e sessanta. Al momento della sparizione era in sella ad una mountain bike verde e bianca. Chi lo avesse visto può segnalare direttamente alla prefettura che sta coordinando tutte le forze di polizia. È stato passato al setaccio una zona ampia di Arezzo ma ancora nessuna traccia. Non si conoscono le ragioni del suo allontanamento.